E' arrivata la convocazione del privo tavolo tecnico per discutere del Policlinico Diffuso, la vicenda nata dal protocollo d'intesa con la Core stipulato dalla Regione. L'assessore Ruggero Razzam, come anticipato nella conferenza dei sindaci della scorsa settimana, ha convocato politica ed istituzioni alle dieci e mezza di giovedì per un incontro telematico. Due gli aspetti da sottolineare. Il primo, che nel corpo dell'invito non si parla di Policlinico Diffuso, tra l'altro trovata linguistica che non corrisponda a nessuno schema previsto dall'organizzazione sanitaria, bensì di costituzione di un Policlinico nel territorio della Sicilia Centrale. La seconda, che in indirizzo non ci sono i vertici delle aziende sanitarie interessate, che dovrebbero essere Caltanissetta e N. Agrigento. Invitati invece i vescovi dei territori e i direttori dell'Università di Palermo Midiri e di N. Gianni Pugliesi. Intanto non demorde il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino sul progetto di costituire un Policlinico che abbia il Sant'Elia come fulcro principale.